Perfetto, adesso siete pronti per il nostro trasloco? Certo, amore, non vedo l'ora di andare Anche io Perfetto, non ci resta che prendere l'auto e andare Oh wow, la nostra casa già ce l'avevano arredata come avevamo chiesto Che bello Non vedo l'ora di andare Però per il momento lascio le cose qui all'ingresso Devo assolutamente andare a vedere Aspettatemi Wow, che bello Questa è la cucina ed è veramente super spaziosa E qui c'è un piccolo salottino Molto carino anche questo, direi Perché devi passare sempre avanti senza di me? Scusami Questa è l'assenza da letto Che belletto, è veramente stupendo Che bella Sì tesoro, è proprio tua quella Che bello, è veramente stupendo Qui ci sono pure delle valigie Ah sì, non le avevo notate Belle Adesso andiamo nel bagno Wow, è veramente stupendo anche questo Guarda che vasca Cioè è bellissimo Eh già, è proprio bellissimo Questo bagno Sì sì, assolutamente bellissimo E poi Per dire la verità Vogliamo parlare di quest'albero? Quale albero? Questo Oh mio Dio Oh mio Dio Non l'avevo visto Io sì Che bello Che bella questa luce Sì, è proprio bella È vero tesoro, è proprio bello E questo cos'è? Questo Presumo che sia Un tavolo dove impacchettare i regali Sì, lo penso anch'io Speriamo sia quello Almeno quest'anno non lo dobbiamo comprare Esatto Esatto Qui C'è Un tavolino E qui Nell'esdraio Mi sa che rimango qui a prendermi un po' di sole E basta Sempre il solito pigolo Dobbiamo andare a sistemare le cose Sì ma Ho un po' sonno E poi si sta facendo sera Beh, in effetti Potremmo andare a dormire Eh già Buonanotte Notte Amore buongiorno Svegliati Eccomi, eccomi Sono sveglio Piccolina Svegliati Mamma Che c'è? È mattina Dobbiamo andare a fare shopping Cosa? Dobbiamo andare a fare shopping Ma Dobbiamo andare a fare shopping Non abbiamo praticamente nulla Dobbiamo andare a comprare del mangiare Prima di tutto Beh, in effetti hai ragione Però prima di tutto Voglio sistemare le cose In questo bellissimo scaffale Chiedi tua figlia Va bene Ok Noi ci mettiamo sulla poltrona D'accordo Ok Iniziamo Questo è il reparto papà Naturalmente ancora dobbiamo comprare un sacco di vestiti Questi sono praticamente la metà Perfetto Ho finito Ma Credo che Siano troppo pochi Dobbiamo pure andare a fare shopping Di vestiti Intendo Questa La metto qui Anzi La porta al supermercato A fare la spesa Ehi Possiamo andare Va bene Va bene Vado a prendere la macchina Ok Buongiorno signorina Buongiorno Allora Fortunatamente abbiamo trovato Un po' di cose Adesso Incominciamo A fare Tanta Troppa Spesa Prima di tutto Prendo della pasta Perché Della pasta Naturalmente Serve Poi prendo Dei cereali Per fare colazione Naturalmente Piccolina Aspetta Poi li mangerai Tranquilla Poi prendo Questa marmellata Credo E La salsa Poi prendo Il latte Latte al cioccolato Va bene Latte al cioccolato Compriamo il latte al cioccolato Perfetto Perfetto Però Io comprerei Anche un'aranciata E delle uova Sai com'è? Servono sempre Non ci stanno In busta Vabbè Li tengo io Tranquilla Ok Grazie Poi compro Del pollo Assolutamente E del pesce Spostati tesoro Sì scusa Poi prendo Della carne Oh mio dio Vabbè È una salsiccia Dato che la busta Sta esplodendo Metteremo le cose In questo sacchetto Poi prendiamo Del dentifricio Cioè Degli spazzolini E del dentifricio Perché Abbiamo traslocato Non è che abbiamo queste cose Vabbè Dello shampoo Insomma Di qui prendiamo tutto Questo spazzolino Lo lasciamo qua Vabbè Facciamo così Perché ce ne servono tre Non ce ne servono quattro Quindi facciamo così E poi Vabbè Delle patatine Per sgranocchiare qualcosa Vabbè Poi prendiamo Un'ananas Un po' di lattuga Del sedano Delle zucchine Carote Mele Arancia E poi Credo Possa bastare Perfetto Adesso Paghiamo E andiamo assolutamente A fare shopping Tenga signorina Eccoci arrivati Allora Tieni la carta di credito Oh mio Dio Paura Devi averne Va bene Dopo aver assicurato Il mio marito Prendo il carrello E vado A scegliere Alcuni vestiti Oh mio Dio Ma questo è bellissimo Ne ho bisogno Assolutamente Poi Posso prendere Sì Questo outing È molto bello Ti amo Nel carrello Poi Per mio marito Questo Qui Non mi dispiace E neanche questo Sinceramente E questo Vabbè Prendiamolo lo stesso Cioè Tanto Chi ce lo vieta Paga lui Vabbè Sinceramente Non mi va Di provare nulla Non mi va Tanto io Le mie misure Le so E le cose Tendenzialmente Mi stanno sempre bene Come ho fatto A non vederti Subito Nel carrello Ok Direggiamoci Dall'altra parte Oh mio Dio Che bellezza Che bellezza Che bellezza Prendiamo Queste asciugamani Assolutamente E poi Il mondo Di ogni donna Maschera Creme viso Spray Oh vabbè Possono servire Sempre comunque Oddio E smalti Oh mio Dio Che bellezza Gli smalti Io ne ho Veramente Un'ossessione Poi passiamo A mia figlia Allora Innanzitutto Un ciuccio Se almeno la sera Smetterà di piangere Forse Poi Non so cosa Siano questi Però Nel sperilsi Per il non ne prendo uno Piccolina L'avevo messa Nel mio carrello Non te l'avevo data A te Perché non entra Vabbè Lo tengo in mano Ho capito Un biberon Sperando che Questo ci entra Almeno Ok C'è entrato E adesso Vediamo cosa posso Acquistare di vestitini Allora Innanzitutto Un pannolino Mi serve Quale prendo Quale prendo Quale prendo Mi sembrano Tutti maschili Che bella Questo qua Sì Pagare Arrivederci Grazie signorina Oh mio Dio Ma quante cose Ha preso Eccoci arrivati Finalmente Sì Aspetta Io sono carico Di roba La bambina Mamma Tranquilla Ce la faccio Da sola Meno male Meno male Cucciolina Rimani un secondino Qua Sediti lì Ok Andiamo a posare Tutta questa roba Perfetto Il bagno L'ho sistemato Per ora Ancora devo Comprare cose E i vestiti Anche Adesso Non mi interessa Che sistemare La spesa E aiutami tu Sì sì Certo 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 Ti aiuto Ok ragazzi Abbiamo sistemato Tutto il cibo Qua dietro Le uova Ci sono altre uova Quindi per quello Abbiamo sistemato Tutto il cibo Naturalmente Questa Ancora dobbiamo Comprare le cose Per pulire la casa Questa è giusto Per accomodare I primi giorni Queste cose Ci servivano Per forza E' proprio Lo strezzo Necessario Riguardante Al mangiare Poi invece Riguardante Alle altre cose Dobbiamo comprare Poco e niente Adesso vi facciamo Vedere Perché avevamo Dimenticato Di sistemare Queste tre cose Ovvero Gli spazzolini Identificio Lo shampoo E il sapone E questi qui Ci servono Per quando ci facciamo La doccia Per chi non Avesse capito Quindi Niente Io E mia figlia Usiamo Lo stesso Asciugamano E niente Ragazzi Ciao Spero questo video Vi sia piaciuto Spero 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 Spero